Musica Buonasera a tutti voi, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise, ultimo appuntamento della giornata con il nostro telegiornale. Partiamo parlando della GAM, perché lavoratori, trasportatori e allevatori sono di nuovo sul piede di guerra e domani mattina protesteranno davanti alla sede della Giunta regionale dopo un mese di silenzio e delusi per le promesse mancate. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Hanno atteso in silenzio per oltre un mese che la situazione si sbloccasse, stando anche agli impegni assunti da Paolo Frattura agli inizi dell'anno, con un piano di rilancio svanito nel nulla. In realtà non è successo niente di nuovo e così lavoratori, allevatori e trasportatori della GAM hanno deciso di andare a manifestare il proprio disappunto e tutta la rabbia accumulata in tanti mesi di promesse fatte e non mantenute davanti alla sede della Giunta regionale. Il bilancio è questo, 320-330 lavoratori a tempo indeterminato in gas integrazione, 400 avventisi storici parlo che hanno lavorato per 13 anni in quell'azienda senza né forme di sostegno a reddito e senza ammortizzatori sociali. Poi ci sono gli allevatori e i trasportatori completamente fermi e oggi è un bilancio negativo, è un disastro sociale a tutti i livelli. Ma il piano industriale sul quale avete anche discusso come sindacati, che fine ha fatto? A noi il piano industriale lo abbiamo visto, abbiamo detto che ci sono dei punti critici che vanno rivisti con la Regione, ma noi aspettiamo che la Regione ci convoca urgentemente perché i lavoratori ci chiamano tutti i giorni. Dove si fa lo stabilimento? Ancora non si sa dove si fa lo stabilimento. Se lo stabilimento si fa da un'altra parte oppure viene ristrutturato quello che ci sta. Alcuni rappresentanti sindacali hanno anche presenziato i lavori del Consiglio regionale e hanno dato, forse con un pizzico di nostalgia, il bentornato a Michele Iorio illustrando all'ex governatore la drammatica situazione che stanno vivendo. A questo punto quindi che farete insieme ai lavoratori? Ma io penso che non solo insieme ai lavoratori, insieme anche ai trasportatori e gli allevatori. Penso che metteremo in campo tutte le lotte possibili di protesta affinché quest'azienda riapri al più presto possibile e non diventa una cattedrale nel deserto come tutte le aziende del Molise che oggi sono chiuse. Tra l'altro il prossimo 4 maggio scadrà la cassa integrazione ordinaria ma i lavoratori devono percepire ancora quella che va dal mese di dicembre ad oggi più una parte degli stipendi e delle competenze maturate nel 2013 con trasportatori e allevatori. Insomma la situazione è drammatica ma a Palazzo Vitale si pensa ad altro. Per esempio all'azzeramento della giunta al momento solo annunciato e ai nuovi equilibri del frattura bis che doveva essere operativo stando alle promesse del governatore già dallo scorso lunedì. Solo lui del resto poteva pensare di aprire una crisi e di chiuderla in 48 ore ma chi mastica un po' di politica quella vera sa bene che così non è. Ancora critico il Comitato dei precari della protezione civile. La determina del direttore dell'agenzia ha spiegato il presidente Giuseppe Colucci pur prevedendo la sottoscrizione di un contratto di lavoro per 100 persone ne definisce la durata in soli 4 mesi e sottopone la eventuale proroga a valutazioni non solo oggettive. Inoltre, ha aggiunto, non sono motivate le scelte delle varie tipologie e categorie professionali né è evidente il criterio che ha determinato la suddivisione dei contratti tra quelli a tempo pieno e quelli a tempo parziale. Ma il fatto più inquietante, ha detto ancora Colucci, è che la determina in barba gli accordi sottoscritti non dice nulla per le 110 persone che non vengono richiamate. Il presidente della Commissione Europea dell'Agricoltura, Paolo De Castro, è intervenuto a Isernia per illustrare la nuova politica comunitaria per l'agroalimentare. Vediamo il servizio di Enzo Di Gaetano. La nuova politica agricola comunitaria è stata illustrata a Isernia da Paolo De Castro, ex ministro e presidente della Commissione Europea per l'Agricoltura. E la vicenda dello zuccherificio del Molise è stato uno degli argomenti affrontati dall'eurodeputato che ha parlato della prossima scadenza delle quote zucchero, ovvero dei sussidi europei, per gli stabilimenti di trasformazione. Le quote zucchero, la garanzia che il sistema pieticolo-saccarifero che abbiamo avuto fino adesso scada nel 2017, questa è una certezza purtroppo. Purtroppo dobbiamo organizzarci, la speranza è che si riesca a mantenere uno zuccherificio al sud. Mi sono battuto perché Termoli possa mantenersi in vita, naturalmente le condizioni competitive, il quadro competitivo della produzione di zucchero è molto mutato negli ultimi tempi, oggi il prezzo soffre di un calo importante, siamo sotto i 500 euro tonnellata, quindi non c'è dubbio che dobbiamo lavorare molto per migliorare l'efficienza, sia nella parte agricola aumentando le rese zucchero per ettaro, sia nella parte industriale riuscendo ad avere costi di trasformazione che mettano in condizione un zuccherificio di mantenersi e di sopravvivere anche in queste condizioni. La buona notizia che arriva dalla PAC è che certamente gli aiuti accoppiati che rappresentano in questa nuova riforma della politica agricola comune una quota rilevante dal punto di vista finanziario, stiamo parlando di 550 milioni all'anno che l'Italia dispone per dare in maniera legata alla produzione, accoppiata alla produzione, potranno garantire un importante sostegno ai produttori di barbabietole da zucchero, si parla di intorno ai 500-600 euro per ettaro per chi farà barbabietole da zucchero, quindi la base produttiva, la nuova PAC potrà mantenerla, ma è evidente che ci vuole l'efficienza industriale, sotto questo profilo bisogna continuare a lavorare nella speranza che almeno in Italia si possa avere un paio di zuccherifici al nord e uno zuccherificio al sud. Quindi anche oltre 17 se ci si organizza e se si rende l'attività produttiva si può andare? Il problema delle quote non è direttamente legato alla sopravvivenza dell'impianto, è chiaro che l'eliminazione delle quote mette in competizione i sistemi produttivi e il nord Europa, lo sappiamo, gode di condizioni naturali favorevoli perché hanno degli stabilimenti che lavorano non su 120-130 giorni ma lavorano su 4-5-6 mesi di lavoro, hanno rese per ettaro che sono il doppio, il triplo delle nostre rese, zucchero per ettaro, è evidente che quindi le condizioni competitive sono diverse, ma sta a noi però migliorare queste condizioni competitive, creare delle condizioni affinché ci sia comunque una possibilità di risultato economico per mantenere in vita, magari con dei redditi più bassi, ma mantenere in vita il sistema produttivo bieticolo-saccaricolo. Ora andiamo invece in Consiglio regionale, è tornato a riunirsi oggi a Campobasso e in aula è tornato anche l'ex governatore Michele Iorio. Vediamo. Dopo un anno di sospensione dal suo incarico di consigliere regionale, l'ex governatore Michele Iorio è rientrato a Palazzo Moffa. Il presidente Vincenzo Niro e l'Assemblea regionale hanno preso atto della cessazione del periodo di sospensione con la sentenza di Cassazione che ha dichiarato prescritto il reato di abuso di ufficio. Ho atteso molto questo momento anche perché non ho avuto la possibilità di esprimermi subito dopo le elezioni in Consiglio regionale per una legge assolutamente iniqua. Poi la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e oggi sono pronto a riprendere il mio ruolo, quello che mi hanno affidato gli elettori molisani. I quasi 50.000 molisani mi hanno comunque dato questa possibilità. Io sostengo sempre che nella politica l'opposizione o la minoranza non è una scelta, è una scelta dei cittadini, ma è anche importante rappresentare l'idea e gli interessi di tutti i cittadini molisani visti dal punto di vista dell'opposizione. Come sarà la sua opposizione? Lo farò con molta determinazione, con grande disponibilità al dialogo. Il problema è che il Molise sta affrontando in questo periodo un momento veramente brutto, straordinariamente negativo per effetto di una disoccupazione incredibile per le crisi aziendali che sono in giro. Io credo che c'è bisogno di un Consiglio regionale che dia la spinta necessaria per risolvere molti di questi problemi. Alcuni si possono affrontare meglio, forse, con l'intesa di tutti e nell'interesse soprattutto dei lavoratori. Poi tante questioni rimaste in sospeso, come i grandi appuntamenti finora mancati, l'autostrada che oggi leggevo viene addirittura messa un'altra volta in forse perché si perde troppo tempo per attivare le iniziative. Ci sono anche altre cose che meritano di essere approfondite nel migliore dei modi. Erano appuntamenti già preparati e pronti per questa regione. Bisogna sollecitare anche la giunta regionale. Ma la maggioranza è in fase di verifica politica? La riflessione oggi viene un po' difficile perché a distanza di un anno ci troviamo di fronte ad una crisi della maggioranza. anche se oggi non si chiama crisi, si chiama tagliando, ma il fatto non cambia e credo che questo rappresenta anche questo momento di difficoltà. Spero che subito si superi questa fase e si cominci a lavorare in consiglio regionale in rapporto, in raccordo e in dialogo con la giunta. Michele Iorio ha ripreso il suo posto nella terza commissione e ha ribadito la sua appartenenza al gruppo consigliare Iorio Presidente. L'Aula ha poi discusso la legge che proroga l'esercizio provvisorio della regione fino all'approvazione del bilancio di previsione 2014 e comunque non oltre il prossimo 30 aprile. A Palazzo Moffa si sono visti anche quattro dirigenti compreso il Presidente della Corte dei Conti che hanno incontrato a porte chiuse l'ufficio di presidenza del Consiglio. Non si conoscono le motivazioni alla base del confronto ma secondo Vincenzo Niro si è trattato di una visita istituzionale per fare il punto sui bilanci dell'ente. E sulla questione discussa in Aula, quella relativa all'esercizio provvisorio è intervenuto anche a Palazzo Moffa il consigliere regionale del centro-destra Nicola Cavaliere. L'esercizio provvisorio, ha detto, provoca gravi danni al sistema produttivo locale proprio in un momento in cui la crisi economica mette in ginocchio imprese e famiglie e le istituzioni dovrebbero agire in modo concreto e responsabile. Entro febbraio, ha poi concluso Cavaliere, tutto doveva essere risolto. Così era stato annunciato dalla maggioranza due mesi fa, invece purtroppo è accaduto l'esatto contrario. E ora veniamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni dei quattro ragazzi rimasti coinvolti nell'incidente mortale avvenuto al bivio di Sant'Agapito in cui ha perso la vita il parroco di Marcianise. Vediamo servizio di Sergio Di Vincenzo. Un ragazzo di 14 anni è stato trasferito al Neuromed di Pozzilli e ora ricoverato nel reparto di rianimazioni in condizioni definite molto critiche e in coma. La più giovane della comitiva, una ragazza di 13 anni, è stata invece operata all'ospedale di Campobasso per ridurre un ematoma alla testa e le fratture alle gambe. Le sue condizioni restano gravissime, ma non sarebbe in pericolo di vita a salvo complicazioni. Prognosi riservata anche per gli altri due giovani occupanti della Skoda Octavia Station Vagon guidata da Donga Etano e Aderosa, parroco di 69 anni, titolare della parrocchia San Simeone di Marcianise morto in seguito allo schianto contro una casa disabitata a ridosso della statale 85 Venafrana a non molta distanza dal bivio di Sant'Agapito. Anche loro sono stati ricoverati al Cardarelli. A Isernia per loro si è potuto fare poco o nulla, visto che l'attacca era guasta. Il gruppo stava tornando a Marcianise dopo aver trascorso la giornata al santuario di Castelpetroso. Donga Etano era molto legato alla Madonna dell'Addolorata. Aveva infatti acquistato e ristrutturato una casa in di prete. Quando aveva un po' di tempo libero ne approfittava per venire in Molise. Ogni tanto portava con sé qualche parrocchiano, così come aveva fatto ieri. Sulle cause dell'incidente proseguono le indagini della polizia stradale di Isernia. Per ora l'ipotesi del malore resta quella più convincente. Sull'asfalto infatti non ci sono segni di frenata. L'auto è finita prima nella cunetta, poi è andata dritta contro l'abitazione, abbattendo guardrail e segnaletica. Hanno assistito atterriti all'incidente altri componenti della comitiva. Viaggiavano a bordo di un'altra auto che seguiva la scoda guidata da Donga Etano. E proprio questo incidente ha riportato in cronaca il problema della sanità molisana. Sentiamo Enzo Di Gaetano. L'incidente portale di Isernia ha riportato ancora una volta in cronaca le drammatiche condizioni in cui opera il pronto soccorso del Ferdinando Veneziale. L'attacca è stata riparata oggi, ma senza un'attacca funzionante è necessario portare in altri ospedali i pazienti da assistere. Una situazione emergenziale segnalata più volte dal primario. Questa è una situazione che noi abbiamo segnalato da tempo. Non è da molto che è successo un episodio simile. In pratica abbiamo avuto proprio nel mese di luglio una situazione identica per cui eravamo costretti a caricare i nostri pazienti, portarli a Venafro, fare l'attacca e riportarli qui per poi essere valutati. Ora, questo è uno dei problemi. Altri problemi sono rappresentati da un'ortopedia che sta lontano dal centro dell'emergenza, da un'erochirurgia che sta in un'altra zona. Per cui l'unità dell'ammalato dovrebbe essere frazionata in questo insieme di patologie. E quando abbiamo il politraumatizzato abbiamo questo grosso problema. Ieri c'era una situazione ancora più drammatica perché non si poteva fare diagnosi in assenza di TAC e tutti quanti necessitavano di una TAC total body con contrasto. Per cui abbiamo dovuto gestire davvero in una situazione, ripeto, drammatica questo problema. Ecco ora, il tavolo massicci ha sollevato nuove critiche. Quindi questa situazione drammatica non vede via d'uscita. Il tunnel è senza sbocchi praticamente. Questa è una classe politica indecente. Da molti anni, ma da molti anni, dal 2007, che facciamo queste discussioni, ma non esiste un piano decente per la riorganizzazione dell'azienda. Altre regioni sono andate avanti. Noi siamo bloccati per interessi politico, clientelari e di altro tipo e non si riesce a sbloccare. Penso che dovremmo attivarci noi operatori per fare una proposta decente perché quello che sta succedendo adesso vuole soltanto privatizzare la sanità. Quindi se si vuol tendere a dimostrare che il pubblico non funziona, per cui poi tutto deve finire al privato, questo è il risultato attuale. Oggi al Tribunale di Sernia si è tenuta l'udienza preliminare per chiarire eventuali responsabilità sulla morte di un bimbo di rocchetta al volturno avvenuta nel giugno del 2011 all'ospedale Veneziale nella fase del parto. Oggi il giudice Antonio Ruscito ha ascoltato Lucia Broccoli, il medico legale che effettuò l'autopsia. L'udienza è stata aggiornata al 15 maggio prossimo. Dopo le osservazioni da parte degli avvocati della difesa e di parte civile, il giudice per le udienze preliminari dovrebbe pronunciarsi sulle richieste di rinvio a giudizio del pubblico ministero Marco Gaeta. Sono finiti sotto inchiesta due ginecologi, un infermiere, un ostetrico e un pediatra. I carabinieri del comando provinciale di Campobasso hanno intensificato i controlli contro il fenomeno dei furti. Ce ne parla Tonino Danese. Furti negli appartamenti auto rubate cittadini sempre più preoccupati soprattutto nelle contrade di Campobasso e nei paesi dell'Interland, ma anche nell'area matesina e a confine con il Foggiano e il Beneventano. I carabinieri fanno quello che possono con pattugliamenti notturni e sfruttando al meglio il personale a disposizione. A Vinchiaturo qualche settimana fa un ladro è stato messo in fuga dal proprietario della casa che stava svaliggiando svegliato dal trambusto malvivente che è fuggito piuttosto malconcio in quanto per sua sfortuna si è imbattuto in un maestro di karate. I carabinieri di Riccia hanno fermato due uomini della provincia di Foggia che si aggiravano su un furgone con fare sospetto. Due pregiudicati è stato accertato con precedenti per furto e ricettazione i quali non hanno saputo dare spiegazioni su cosa facessero sul territorio. Nei loro confronti è stato proposto il foglio di via obbligatorio. Il sindaco di Riccia intanto ha convocato oggi una task force con carabinieri, corpo forestale e polizia municipale nella quale è stato attivato un quadro operativo e immediato per combattere il problema dei furti e assicurare tranquillità ai cittadini. A Boiano durante un servizio di controllo sempre i carabinieri hanno sorpreso due ladri su una macchina appena rubata e che alla vista dei militari sono fuggiti. Ne è nato un inseguimento che si è concluso con l'abbandono dell'auto da parte dei malviventi i quali si sono dileguati nella vegetazione facendo perdere le tracce. La macchina è stata recuperata restituita al proprietario e i furti negli ultimi tempi sono stati diversi anche quelli di rame come al depuratore comunale di Campobasso e non solo tanto che il comando provinciale dell'arma ha intensificato i controlli nei comuni che ricadono nel territorio di competenza. A supporto delle locali stazioni negli orari ritenuti a rischio è stato inviato personale del radiomobile e delle stazioni vicine per incrementare la presenza in quelle zone e prevenire i reati contro il patrimonio sia nei centri abitati sia nelle aree periferiche rurali prese di mira dai ladri. E anche a Campomarino in azione i carabinieri che hanno denunciato un rumeno di 56 anni per tentato furto aggravato. A Montenero sempre i carabinieri hanno denunciato con la stessa accusa un uomo di 59 anni sorpreso a rubare alcuni attrezzi e materiale edile da un cantiere vicino al cimitero. Ora invece ci occupiamo di viabilità ancora ritardi e disservizi per i treni molisani sentiamo il perché da Marcella Tamburello. Continuano i disagi per i viaggiatori molisani i soliti ritardi del treno che collega Campobasso con la capitale non smettono di stupire pendolari che viaggiano tra Molise e Lazio. Treni vecchi e malandati sembrano essere la causa principale dei disservizi ma questa volta l'ansia ha colpito tutti i pendolari che sabato sera viaggiavano sulla tratta Roma Campobasso. Il treno partito alle 20.35 dalla capitale ha cominciato a manifestare i primi problemi ad Isernia con uno strano odore di bruciato hanno detto i viaggiatori a quanto pare per problemi ai freni fino a fermarsi completamente in una campagna ridosso di Carpinone lasciando tutti al buio per quasi due ore come ci ha riferito una pendolare che stava viaggiando proprio su quel treno. Tra la fermata di Isernia e Carpinone in mezzo a questa bella montagna il treno si è completamente fermato senza nessun cenno di ripartenza ovviamente abbiamo aspettato 5-10 minuti pensando che la cosa si risolvesse e invece niente assolutamente siamo stati fermi la bellezza di più di un'ora dopodiché alla mezzanotte io ho chiamato i carabinieri dicendo esponendo il problema i carabinieri mi hanno passato i vigili del fuoco i quali loro stessi hanno detto signore proviamo a vedere di risolvere la cosa invece niente c'erano altri passeggeri ovviamente ha chiamato anche un'altra ragazza i vigili del fuoco che a loro volta hanno detto signora non è un problema nostro ma è un problema di Trenitalia Ennesimo di servizio per i viaggiatori molisani che lanciano un appello alle istituzioni bisogna intervenire al più presto perché Trenitalia si sta prendendo gioco di noi hanno detto l'appello ovviamente lo lanciamo all'assessore ai trasporti il signor Nagni che eloquentemente in campagna elettorale ha fatto tantissime belle promesse di poter risolvere il problema dei trasporti che non è cosa da sottovalutare per noi molisani e per la regione stessa invece pare che questi problemi si ripetono spesso frequentemente e aggiungerei che ci sono dei servizi antigenici sui vagoni pregherei magari il signor Nanni cortesemente di rendersi conto direttamente del problema forse magari ci crederà di più Il candidato sindaco di Campobasso del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina è intervenuto sul piano della pubblica sicurezza che riguarda il ridimensionamento dei presidi di polizia Campobasso ha detto Gravina in un discorso di risparmio verrà in particolare privata del posto di polizia ferroviaria le cui spese sono per il 90% sostenute dalle stesse ferrovie e della scuola di polizia una delle poche strutture di proprietà facendo restare in vita altre scuole dove si spendono fior di soldi per l'affitto ha poi concluso Ora voltiamo pagina per l'ultimo giorno di carnevale andiamo a Castelnuovo per la manifestazione dell'uomo cervo vediamo il servizio di Tonino Danese Come sempre il rito dell'uomo cervo ha richiamato tanti appassionati nella piazza di Castelnuovo una rappresentazione antichissima quella proposta nel periodo di carnevale che si presta a tante interpretazioni da parte degli studiosi per alcuni segni è il passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile simboleggiato in modo violento la rinascita della natura è bilanciata da una morte sacrificale per altri questo rituale richiama la paura degli uomini di fronte a ciò che non è spiegabile non è comprensibile come appunto la violenza della natura la cui furia non sempre può essere arginata in realtà le origini di questo carnevale restano affidate solo alle ipotesi che poggiano le loro basi sui personaggi che animano la rappresentazione su tutti il cervo crea disastro cioè tutto quello che trova dinanzi a sé distrugge spaventa il popolo casselnovese e niente rappresenta il male diciamo in questo rito a porre fine alla devastazione ci pensa un cacciatore il cervo e la cerva vengono uccisi ma poi avviene il miracolo il cacciatore in realtà è uno sciamano che soffiando nelle orecchie del cervo e la cerva li purifica e questo appunto è di buon auspicio per il raccolto poiché la natura che all'inizio sembra essere cruente e selvaggia e sovrassa all'uomo alla fine si rivela un'amica grazie all'impegno dell'associazione culturale il cervo la manifestazione di Castelnuovo ha acquisito una certa notorietà anche oltre i confini regionali noi lavoriamo molto con materiale editoriale ma più che altro con il sito internet e poi portando la maschera in giro questo ci ha dato poi questo spazio sempre più vasto abbiamo fatto diversi gemellaggi non solo con i sardi siamo andati anche fuori all'estero e niente a differenza di prima ci muoviamo con orgoglio e grande festa per il carnevale anche a Monte Falcone del Sannio vediamo il servizio di Manuela Iorio grande festa a Monte Falcone del Sannio per la 17esima edizione del carnevale una manifestazione che negli anni si è arricchita sempre di più sei carri che hanno sfilato lungo le vie principali del paese accompagnati da gruppi di ballo e musica diversi temi Dubai Dragon Ball Peppa Pig l'inferno di Dante c'era anche quello dei cartoons messo su dal centro per anziani ne è arrivato anche uno da San Felice del Molise dedicato alla foresta di Tarzan soddisfatto l'organizzatore presidente del comitato pro carnevale Giuseppe Zampino il medico del paese questa è una manifestazione popolare il popolo di Monte Falcone l'ha accettato molto bene perché si diverte è un giorno diverso dagli altri è un giorno di allegria è un giorno che porta un po' di sorriso abbiamo tanti problemi a questo mondo ecco un po' un pizzico di allegria un sorriso a tutti specialmente a quelli che soffrono a quelli che sono meno fortunati di noi credo che sia buono e quindi va bene il popolo l'ha accettato molto bene così tante le persone che hanno partecipato alla manifestazione che ogni anno attira sempre molti visitatori certosino il lavoro dietro la preparazione dei carri oltre 100 persone hanno partecipato alla costruzione delle strutture la manifestazione è un modo per mantenere viva la comunità come conferma il sindaco in versione Peppa Pig Gigino D'Angelo Significa insomma mantenere viva una comunità significa coinvolgere tantissime persone tanti ragazzi tanti giovani tanti anche anziani cioè per noi per noi il carnevale è questo non è soltanto oggi significa che per 40 50 giorni per due mesi un popolo intero una comunità intera partecipa sta insieme si aggrega si diverte e insomma questo significa essere una una comunità perciò è importante per noi sono state davvero tante le iscrizioni per il prossimo anno scolastico all'istituto tecnico industriale Marconi di Campobasso una risposta positiva alla qualità dell'offerta formativa detto il dirigente scolastico Sergio Genovese il quale ha ringraziato le famiglie e i ragazzi per questa scelta speriamo aggiunto di essere all'altezza della fiducia riscontrata per costruire insieme certezze di futuro in un quadro generale difficile dove ha poi concluso il dirigente scolastico Genovese anche la scuola patisce il suo momento di crisi bene con questa notizia si chiude anche l'edizione delle 23 del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi l'informazione torna alle 7 in punto con i tg del mattino e la nostra rassegna stampa per il momento è tutto vi auguro buonanotte